Ed eccoci dunque in uno dei tanti cuori pulsanti di Acqua e Veronesi e di cuore si deve parlare perché questa come vedete è la centrale operativa della sede veronese e con noi è Giovanni Miozzi che di Acqua e Veronesi è il vicepresidente e allora intanto nel ringraziarla per la disponibilità le chiediamo subito dottor Miozzi quale sia la qualità dell'acqua che noi abbiamo visto erogata e che i cittadini veronesi e non solo hanno visto come si eroga. L'acqua nostra è un'acqua estremamente buona, lo dico io ma lo dicono anche le prove che sono state fatte a livello chimico sono dati estremamente positivi. L'acqua veronese tra l'altro è stata considerata dai sommelier che l'hanno assaggiata un'acqua molto buona è la seconda a livello italiano, solo quella di Roma è la migliore della nostra. Io poi tra l'altro dico usiamo l'acqua, l'acqua di robinetto e non quella di bottiglia perché appunto l'acqua di questi robinetti, della nostra acqua, quella veneta, è un'acqua di qualità ottima. Tra l'altro è la meno cara del Veneto. Noi avremmo modo e tempo di documentare con voi tanti altri temi ed argomenti visto che con voi stiamo abbracciati per un'intera stagione televisiva. Ma diamo comunque vicepresidente già qualche numero rispetto alla vostra attività. Beh Acqua Veronesi è una società che gestisce 69 comuni della provincia di Verona eroghiamo qualcosa come 68 milioni di metri cubi d'acqua all'anno e gestiamo qualcosa come 4.200 km di condutture. Questi sono numeri significativi che fanno capire l'importanza della nostra società e la dimensione della nostra società che è tra l'altro la più grande del nord-est. E la qualità del servizio a questo punto che cosa deve significare? Beh la qualità del servizio sicuramente per noi significa investimenti sul territorio, significa ampliare e gestire al meglio i servizi e gli impianti che abbiamo, significa investire qualcosa come 120 milioni di euro in due anni. Per concludere questo primo step, ma ripeto con Acqua Veronesi il nostro rapporto informativo continuerà per tutta la stagione, si può dire vicepresidente che la vostra società consortile al di là del servizio all'utenza tuteli le caratteristiche dell'acqua? Assolutamente sì, noi con il nostro servizio cerchiamo di tutelare al massimo l'acqua. Come? Facendo analisi continue sul territorio e dunque dando una garanzia che la nostra acqua sia un'acqua sicura, si possa usare e anzi invitiamo assolutamente le persone, bevete l'acqua del rubinetto che è un'acqua sana, buona e a poco costo.